Dopo la rielezione del presidente francese Macron arrivano i complimenti dei politici italiani, da Draghi a Letta, passando per Conte e Renzi. Salvini resta schierato con le penne, Meloni tace, da Draghi a Di Maio, passando per Letta e Conte. Ieri sera quasi tutti i leader politici si sono congratulati con il presidente francese Macron, rieletto con il 58,54% dei voti contro il 41,46% di Marine Le Pen. Ma c'è anche chi ha voluto ringraziare la leader dell'Assemblea National come Salvini. La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l'Europa ha commentato il presidente Draghi. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un'unione europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. E ancora, al presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del governo italiano e mie personali ha continuato siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri paesi e di tutti i cittadini europei. I complimenti sono arrivati a stretto giro, dopo l'annuncio dei primi ex poll, anche dal ministro Di Maio, complimenti e buon lavoro al presidente Macron ha twittato e solo con una forte spinta europeista che potremo continuare a portare avanti, tutti insieme, importanti battaglie a sostegno dei cittadini, anche in Europa. Uniti, per uno è sempre più coesa. Una linea condivisa con il presidente del suo partito, Giuseppe Conte, che oltre alle congratulazioni ha anche attaccato, le sfide sono molteplici ed è importante che non abbia vinto una destra di ispirazione xenofoba che specula sui problemi senza essere capace di offrire soluzioni adeguate. Anche nel Partito Democratico c'è grande soddisfazione, a partire dal segretario, ora tutti insieme, siamo più forti. Un voto che sconfigge il nazionalismo, l'antieuropeismo e Putin ha twittato Enrico Letta un voto che rende l'Europa più forte. Ora tutti insieme per fermare l'invasione dell'Ucraina ed evitare una nuova recessione in Europa. Oltre ai ricomplimenti, invece, Matteo Renzi ha rivendicato, una vittoria schiacciante, una bellissima pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. Orgogliosi di stare con lui fin dall'inizio.